Sì, però non c'è una serata da non perdere qui sulle frequenze di E-Sports, sempre in prima linea per regalarvi il grande calcio in diretta. Un saluto agli amici da casa, da parte mia e di Lele Adani. Torna il grande show della Serie A Team su queste frequenze. Gara che dovrebbe essere in garanzia di gol e spettacolo, è quello che ci aspettiamo tutti. Tu lo sai, Pier, eh? Quando c'è da commentare una partita di calcio, io sono pronto in prima fila, ma oggi ancora di più. La sfida promette di regalarci gol, spettacolo, emozioni, calcio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Si comincia. squadra di casa che si schiera con questi undici porta affilata a Provedel per la difesa Marudic schierato con Lazzari nel ruolo di Terzini Milinkovic, Savic insieme a Luis Alberto al centro e Ciro Immobile schierato come unica punta che occasione vuole la volée portiere che allontana senza problemi controlla il possesso del pallone palla interessante per Felipe Anderson è arrivato subito il gol dell'1-0 questo gol merita di essere rivisto per far vedere come si calcia la palla potenza, precisione c'è tutto in questo tiro ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 possono trovare il gol del pari attenzione palla in rete non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire questo replay del gol da apprezzare la coordinazione con cui è impattato la palla non può far niente il portiere qui hanno pareggiato dunque 1-1 prova questo filtrante alto Immobile mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi possono passare in vantaggio ferma l'attaccante ma non è finita Attebur si va avanti per la norma del vantaggio bravissimo qui il difensore che recupera c'è campo attenzione la squadra è sbilanciata in avanti Marosic Luis Alberto Lazari Immobile ecco Milinkovic Savic può andare direttamente in porta glielo chiede anche il pubblico tocco intercettato Milinkovic Savic tocco per Felipe Anderson occasione per passare in vantaggio terpento puntuale del portiere che si tuffa e le vita il peggio va direttamente in area allontana la minaccia possono ripartire attenzione si affidano a una fitta rete di scambi salva tutto qui Immobile buona protezione del pallone qui attenzione Immobile Milinkovic Savic c'è l'occasione per Luis Alberto senza problemi qui Musso le statistiche sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora sono largamente in favore della squadra di casa i numeri parlano chiaro Pier da qualche minuto a questa parte stanno facendo il bello e il cattivo tempo devono approfittare di questo momento favorevole per piazzare la zampata vincente e trovare il gol Alessio Romagnoli Manuel Lazzari da profondo Milinkovic palla fermata benissimo dal difensore ci sono metri per andare può andare al tiro rifinge il primo tiro e il pallone finisce in rete portiere che non ci è arrivato per un soffio qui è riuscito solo a toccare la palla ma non è bastato per impedire che terminasse in rete Ponteggio cambiato ora siamo sul risultato di 2 a 1 Lazzari Felipe Anderson lancio con i giri giusti ottima la parata di Musso hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare e i tifosi spingono si fanno sentire avvertono il profumo di gol nell'aria c'è il tocco corto Marosic mette fila l'attacco e recupera il pallone attenzione Immobile Lazari tocco per Immobile Luiz Alberto tocco per Felipe Anderson tiro murato hanno il pallone che può valere la parità attenzione e c'è il gol parità dunque ci viene riproposto il gol che riapre la partita e riporta il risultato in perfetta parità quando manca davvero poco l'intervallo vedremo se e come cambierà l'inerzia del match del secondo tempo 2 a 2 bella partita parità assoluta l'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero basta così dice l'arbitro tutti negli spogliatoi comincia così la partita c'è il segnale dell'arbitro comincia il secondo tempo prova da lontano si oppone con sicurezza qui il portiere c'è di ribattere corto Jim City va in porta tentativo sventato senza problemi dal portiere Ciro Immobile non bene qui Immobile che perde palla avanza sulla tre quarti azione che sfuma ottima lettura difensiva Felipe Anderson possesso del pallone che viene recuperato si affacciano nella tre quarti Mirinkovic Savic palla per Felipe Anderson prova a metterla sulla corsa del compagno Felipe Anderson la perdono Melinkovic Savic contrasto efficace in area e pallone recuperato c'è la possibilità del contropiede Maruzic la gira su Romagnoli buono il pallone recuperato guadagna metri palla che filtra attenzione non si fa sorprendere entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche cross verso il centro dell'area salva tutto all'ultimo istante sarà nuovamente calcio d'angolo palla verso il centro dell'area buona pressione qui efficace la copertura colpo di testa impreciso mandano in campo forze fresche 22 Matteo Lungeri entra con il numero 77 Domine Zolvacosta Melinkovic Savic si mette bene sulla linea del passaggio intercetta palla si fanno vedere i compagni Lazzari attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio deve tuffarsi qui il portiere intervento non particolarmente difficile allora Pier questa è una parata comoda ma va pur sempre fatta la mette in mezzo finisce qui l'azione d'attacco palla che non arriva a destinazione hanno metri a disposizione ferma l'azione recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta Pedro ha il pallone del possibile vantaggio pallone in rete e rimettono la freccia grazie a questo gol è scattato tempo sul suggerimento profondo del compagno e anche il replay dimostra che era in gioco ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere trovano il vantaggio al tramonto del match doccia davvero gelata per gli avversari ancora un quarto d'ora da giocare il cross verso il centro ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno aveva tutto da perdere ma come ne è uscito alla grandissima crossa nel mezzo si tuffa e sventa il gol sbaglia il rinvio qui intercetta il traversone 600 secondi da giocare ancora avanzano a caccia del momento giusto efficace la copertura della difesa che si salva contrasto efficace palla che esce sarà rimessa ci sarà dunque una sostituzione Atebuer recuperano palla Luiz Alberto prova a servire profondo il compagno l'azione sfuma Boga Pasalic ci provano ancora questa può essere l'ultima possibilità c'è la ribattuta c'è spazio per la ripartenza ci saranno altri tre minuti quelli di recupero Mininkovic Savic brutta gestione di Mininkovic Savic tenta l'imbucata scocca la conclusione il tuffo del portiere decisivo corner da sfruttare se vogliono il pareggio calcio d'angolo battuto palla in mezzo palla allontanata ma non è finita hanno l'occasione attenzione per trovare il gol del pareggio fissa l'arbitro gara che finisce con il successo della squadra di casa tre punti importanti esultano per questi tre punti arrivati al termine di una vera e propria battaglia vincere questa partita aumenta l'autostima del gruppo e in altre situazioni arrivo a dirti che probabilmente non l'avrebbero portata a casa grazie a tutti